All'angolo blu per la fortitudine De Filippo, angolo rosso per l'Invictus Fati. Prima ripresa! Lavora sui colpi sinistri, ok, lascia bene con il sinistro, ok, bravo, lascia bene con il sinistro, gioco colpi sinistro, bravo, tieni sulle mani, porta a suo destro, non stia neanche con il sinistro, ok, lascia bene con il sinistro, dai lascia, stavo, lavorano però con il sinistro, so se lo teniamo a bocciare. Diretto destro, lascia bene con il sinistro, tieni alto con il sinistro, tieni alto con il sinistro, devi alzare con il sinistro, stai sciolto, stai sciolto, stai sciolto, stai sciolto, stai sciolto. A scarti. A scarti. Tieni alto con il sinistro, tieni alto con il sinistro, tieni alto con il sinistro, vai bene, ma non va bene, dritto, va bene. Basta, sciolto, sciolto, comincia a sciolto, tieni su per sinistro, sinistro, alto, un po' più di sciolto, dai, basta, lascia perdere i punti, lascia perdere i punti, solo colpito, e da bia, andando, dai, basta, lascia prendere i punti, Vado! Bravo, bravo, guardalo, basta, basta, via da là, via da là, bravo, bravo, dai, borsa, borsa, dai, fine, seconda ripresa, questo è il bel match, ciao. Ok, bravo, stringelo, e viego, e stringo il ceretto, tanto giancelà, tanto. Terza e l'ultima ripresa. Chiotto eh! Cominciamo a andare con il solo colpito. Non fa niente, se te prendi. Non fa niente. Piano. 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 Lascia perdere quel piano. Destro, destro. Dritto. Dritto. Tira su le braccia. Durante. Diritti quei colpi. Guarda. 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 Cominciamo a lavorare con quel sinistro. Dai. Non è andato. Non è andato. La lontana. La lontana. La lontana. Bravo. Bravo. Vieni sul sinistro. Aspetta. Non ti girava. Dai via via. Vieni sul sinistro. Vieni sul sinistro. Bravo. Bravo. Gira lì. Gira lì. Gira il colpi. Sinistro e dentro. Gira poi. Vieni sulle braccia. Vieni sulle braccia. Dritto. Portalo un Dritto. C'è un 2 terfetto. Bracia, apte. E lavora da lontana. Non ti avvicinare. Lavora da lontana. Da lontana. Porti i Dritto e basta. Un 2 e basta. Un e due e basta. Lascia a perdere quei mortani. Via. bravo è la fine dell'incontro un bel applauso fino a Correca il centro mi scusi giudice vince questo incontro all'angolo rosso un applauso anche ad Ares e di Filippo anche per questa ragazza